Buonasera a tutti, questo video messaggio per illustrare l'importante provvedimento che la Giunta ha adottato nella ultima seduta. Si tratta di una variazione di bilancio che ci ha consentito di utilizzare una parte dell'avanzo di amministrazione per investimenti. Complessivamente la variazione di bilancio è di circa 290.000 euro e circa 120.000 euro riguardano l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nella parte non vincolata. Come anticipato questa cifra l'abbiamo messa su quei capitoli che sono necessari per completare degli investimenti. In particolare abbiamo messo altre risorse per l'intervento che abbiamo fatto in merito al ponte Cesa Aversa, quindi si completerà l'intervento con la predisposizione dei pali, sistemando il guardrail e quindi completando questo intervento di grande importanza. Abbiamo finanziato anche la realizzazione del campo di calcetto nella scuola elementare di via Campostrino. È un'iniziativa questa a cui teniamo tantissimo perché significa dare uno spazio ai ragazzi per poter praticare sport in maniera gratuita, evitare che i ragazzi possano giocare in strada o comunque non avere uno spazio adeguato dove giocare. Con questa variazione di bilancio mettiamo fondi anche sulla videosorveglianza. Andiamo a completare alcuni interventi. Abbiamo l'obiettivo di rendere il paese interamente coperto dal sistema di telecamere e ci consentiranno queste cifre anche di realizzare la zona ZTL in località Arena dove c'è la pista ciclopedonale. L'altro progetto che intendiamo portare avanti è un'operazione di restyling della Casa Comunale con la pitturazione. Si completerà l'intervento che riguarda l'altra strada che abbiamo realizzato tra via Nenni, via Pascoli e via Parini, questa strada di collegamento che quindi richiede un intervento ulteriore. Ci saranno delle risorse sulla pubblica illuminazione. Ad esempio potremmo illuminare sempre la zona Arena. Abbiamo immaginato di poter fare l'illuminazione con dei pali che sono alimentati dal fotovoltaico. Quindi una serie di interventi che consentiranno al nostro paese di continuare a migliorare. Ad esempio c'è stato chiesto, c'è stato sollecitato da più parti un prolungamento di quella che è la pista ciclopedonale. Con questa variazione di bilancio mettiamo dei fondi per completare l'asfalto, quindi il tratto di collegamento con l'ingresso dell'acqua parque Gloria Village verrà realizzato e quindi lì subito dopo potremmo prolungare la pista ciclopedonale. Quindi in definitiva una serie di interventi che sono investimenti che riguardano il nostro territorio. Con questa variazione di bilancio che è frutto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che è frutto di politiche di bilancio corrette. Quindi è proprio il caso di dire continuiamo a coltivare solo cose belle. Buona serata.